Stefano Zurlo, insomma ti faccio i complimenti perché per me veramente sei stato uno dei migliori in campo davvero hai dettato i tempi in maniera perfetta, avevi messo in porta due volte i tuoi compagni poi insomma è mancata un po' di cattiveria sotto porta forse la partita si può riassumere un po' negli episodi, è una gara secca magari andate 2-0 e finisce la partita invece azione dopo avete preso l'1-1 e poi insomma è cambiato un po' il match Sì infatti analisi perfetta, abbiamo fatto un ottimo primo tempo manteniamo molti reparti stretti, proprio corti e siamo riusciti a passare in vantaggio come hai detto che abbiamo giocato veramente bene è stata una bella partita di Montenegro, una signora squadra e vi devo dire la verità mi sono divertito anche se abbiamo perso però è stata veramente una battaglia, ho giocato da ambi le parti benissimo dispiace per il risultato, faccio complimenti adesso al Montenegro e noi dobbiamo subito ripartire per domenica prossima Massimiliano Berardini del Baranello che battaglia questa che si è consumata al di Tella contro il Montenegro, uscite da vinti ma l'avevate sbloccata con un Eurogoal al primo tempo poi nella ripresa insomma avete subito la rimonta anche in qualche episodio avete provato a riprenderla Sì, hai detto bene, ci tenevamo assolutamente a portarla a casa è stata una partita molto avvincente, comunque battagliata e sicuramente innanzitutto voglio fare complimenti all'avversario, al Montenegro perché se l'è giocata insomma con le armi che aveva e alla fine meritatamente comunque ha portato a casa il risultato ringraziamento anche alla cornice di pubblico per quanto riguarda la partita penso ce la siamo giocati bene anche noi eravamo andati in vantaggio, credo meritatamente alla fine due episodi nel secondo tempo ci hanno un po' condannato e qualche episodio secondo me pure non visto dall'arbitro poteva cambiare l'andamento della gara vede un fallo da ultimo uomo sul nostro attaccante che non è stato ravvisato però non è un alibi alla fine hanno vinto loro con merito e ci teniamo magari la prestazione speriamo appunto di affrontare con la testa e le gambe abbastanza lucide la partita di playoff con l'Isernia grazie grazie